Quello che dicevo pure a lei, c'è una differenza d'età un po' notevole, per cui diciamo questo è dei paletti che... Già se parti in questo modo penso che non ci sarà un miglioramento, un cambiamento... Tina, non voglio affrettare comunque la decisione, perché uscendo diminuiscono i mesi e gli anni? No, non diminuiscono i mesi e gli anni, assolutamente no, però se non c'è comunque attrazione attualmente fisica, può darsi che non c'è attrazione fisica, può darsi che comunque... E allora come vanno le cose bene? Non ho capito, non c'è una attrazione fisica, c'è che nello stesso tempo ci stiamo... Ah, l'attrazione fisica, ah no, perché se no allora io sono uccisa con un altro... No, 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 assolutamente, ci stiamo comunque... Capisco la tua posizione, no? Allora, un uomo che ti dice che il problema è la differenza d'età, vuol dire che lui dà molta importanza alla tua età, no? Certo. Tu come fai ad essere così paziente? Cioè, cosa ti asperti da quei uomini? Non ho ancora detto nulla. No, però, cioè, ma la reazione non è... Cioè, la puntata scorsa... Io ho la puntata scorsa... Ha detto che non c'era questo... Esatto, ma adesso tira fuori l'età. Infatti, l'età è una cosa che ho sempre detto io. La differenza di età me l'hai detto ieri sera a me, però... Grazie. 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 Grazie.